Angelo Antonucci, Vincenzo Soriano, due professionisti, un regista e un attore, ma anche talent scout perché domani si faranno i casting e quindi cercherete i volti per il film. Che volti avete in mente? Diciamo innanzitutto che io in questo film ho una mansione di supervisore artistico in quanto c'è una scrittrice e una regista del film che è Antonella D'Agostino, però ovviamente io cercherò di dare il mio contributo, dalla mia esperienza, ormai da qualche annetto che faccio questo mestiere. I volti che verranno scelti ovviamente saranno attinenti alla storia, che è una storia ambientata a tutta una tematica molto profonda. Non vorrei tanto svelare la trama perché il film, come si dice, è sempre più bello visto che raccontato, quindi a me non piace tanto svelare le cose, però sicuramente dei volti anche non troppo legati a quella fisicità che a volte noi ci possiamo immaginare per certi personaggi. Questa è una scelta precisa della regista perché si vuole dare anche un'immagine un po' diversa di alcuni aspetti che purtroppo vengono spesso anche in maniera, come posso dire, anche di consuetudine trattati da stampa e altre situazioni. Quindi si cercherà anche un'originalità nei volti, questa è una precisa richiesta, magari se uno si aspetta il volto del brutto e cattivo forse non ci sarà il brutto e cattivo perché volte e volte sappiamo che certi volti possono anche camuffarsi, magari il volto del viso d'angelo potrebbe nascondere il peggior omicida al mondo. Quindi questa cosa è una precisa richiesta della regista e noi ci impegneremo per questo. Ho aiutato Antonella D'Agostino in questo progetto e ho cercato di portarmi il film nel Cilento perché è da parecchio che vivo qui, quindi è una terra bellissima, quindi credo veramente in questo territorio. Da professionista non posso cercare nessuno perché saranno tutti bravi e quindi spetta veramente a loro tecnici, a Antonella D'Agostino, ci sarà l'Elemora pure anche lui a fare i casting, ci saranno altre persone ma spetta a loro cercare i volti perché, ripeto, professionalmente potremmo essere tutti bravi, tutti cattivi non me la sento di trovare persone. Io ho portato il progetto qui perché credo in questa terra, credo nel Cilento e quindi in questo film la cosa bella è che mi ha appassionato che non si parla solo di sparatori di Camura ma veramente c'è la ricerca di bellissimi posti, il territorio, quindi questi imprenditori che comunque non sono solo imprenditori soggetti a Camura ma imprenditori che lavorano e veramente hanno dei risultati posti bellissimi, il mare, spiagge stupende e il mangiare buono. Bene, e allora? Quindi questa è la cosa fondamentale. Sarà un film da assaporare. Esatto. Buona ferita. Grazie.